Veniamo al presente e al futuro, pensando chiaramente però anche un pizzico al passato. Che giudizio dà dell'amministrazione targata Sorci e da quali spunti ripartire per la sua eventuale amministrazione? Intanto l'amministrazione Sorci governa da dieci anni. Sorci è stato un sindaco riconfermato, a pieni voti. Credo che abbia fatto molte cose positive rispetto alla costruzione della città. Ha lanciato anche qualche idea, il piano idea, ha lanciato il DURC, il nuovo strumento di programmazione del territorio, credo che a volte abbia anche scontentato qualcuno, perché naturalmente quando si amministra non si possono dire tanti sì o solo sì. Credo che bisogna però recuperare, provare a recuperare questo spirito del dire le cose che vanno fatte e condividerle. Un po' più di condivisione forse ci potrebbe aiutare a vivere meglio i prossimi anni. Tu parlavi prima di modello Marche. Credo che nel modello Marche non ci sia solo una questione politica, ma ci sia una questione di carattere ideale. Ci sono tre grandi campi che si stanno sviluppando nelle Marche ai quali noi guardiamo come idea politica, che sono quello della domotica, che sono quello della longevità attiva e quello del territorio e dell'ambiente naturale, con la nuova legge urbanistica che è a zero consumo di territorio, che ha fatto scelte importanti. E io credo che in queste tre linee si identifichi il modello Marche, cioè lo vedo più come un progetto di sviluppo che come un'alleanza politica, perché l'alleanza politica può essere più ampia o meno, ma è il progetto politico che ha un valore, è la prospettiva che riusciamo a dare ai cittadini. Un giudizio sull'amministrazione dalla quale stiamo uscendo? Beh, io non voglio, è il mio stile, non parlare male degli avversari e delle persone che ha fatto. Sorci ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto secondo le sue intenzioni, l'ha fatto secondo le sue regole, l'ha fatto con un consiglio comunale dove ha lasciato pochissimo spazio all'opposizione, cosa che io invece vorrò cercare di cambiare, anzi ho preso un impegno forte nel mio programma elettorale, che l'opposizione non è una cosa da bastonare ogni volta, voto 18 contro 12, ha vinto la maggioranza, l'opposizione stai zitta. L'opposizione è una risorsa. L'opposizione sono persone che sono state nominate dai cittadini, che sono state elette, e che possono fare molto per l'amministrazione, come pure gli assessori che io nominerò saranno assessori che dovranno essere poi coadiuvati da un gruppo, ognuno da un gruppo di persone esterne della società civile, esperti, non dico consulenti, ma persone che vivono, immaginate l'assessore alle attività produttive, gli assessorati da 10 diventano 7, quindi le deleghe crescono per ogni assessore, quindi immaginate l'assessore alle attività produttive, si dovrà occupare di produzione, di industria, di artigianato, di commercio, forse dei trasporti, ma qui nessuno è un tuttologo. Io cercherò di creare attorno a loro un consenso, una collaborazione di persone esperte in ogni settore della società civile che possano aiutarlo, che possano dare delle indicazioni, piuttosto che uno va da solo e dice faccio quello e poi invece la città vorrebbe quest'altro. Questo sarà quello che anima il mio mandato. Roberto Sorci è una persona che, non dico un amico per carità, ma abbiamo passato questi cinque anni, ci siamo anche a volte beccati, a volte ci siamo anche stimati, come ci siamo stimati moltissimo con l'idea che io ho creato l'Accademia Medin Fabriano e Roberto Sorci è stato un sostenitore, per questo lo ringrazio, è socio onorario, finché non scade il suo mandato e lui ha sempre apprezzato moltissimo il lavoro che è stato fatto con Medin Fabriano. L'ingegner Sorci, Roberto Sorci, ci ha partecipato con slancio. Medin Fabriano è partita tanto tempo fa con idea mia per i miei cataloghi, dove la mia azienda non si chiamava più Air Force Made in Italy, ma l'abbiamo chiamata Air Force Made in Fabriano. Da lì abbiamo pensato, io ho pensato che questo nuovo marchio Medin Fabriano dovesse essere donato alla città. Qui ho trovato Roberto Sorci, un grande collaboratore, un grande stimatore, quindi per questo lo ringrazio. Colgo questa occasione comunque per dire che giovedì, domani pomeriggio, ci sarà un convegno importantissimo di Medin Fabriano, dove verrà un alto funzionario della Ferrero Industria a trovare il nostro territorio, a visitarlo e a raccontarci la storia della Ferrero. Dico questo perché voglio tranquillizzare tutti gli altri candidati sindaci, perché al termine di questo convegno, che era già fissato, perché le date ce le ha dettate l'agenda della Ferrero, quindi era già fissato prima delle primarie, da gennaio che era stato fissato questo incontro, quindi non lo potevamo rimandare. Quindi questo sarà l'ultimo convegno che io farò come presidente di Medin Fabriano Academy. Alla fine del convegno io rassegnerò momentaneamente il mandato da presidente nelle mani dei due vicepresidenti e nelle mani dei due segretari della nostra Accademia. Questo per tranquillizzare tutti quanti, che nessuno possa pensare che io userò Medin Fabriano, no, io giovedì sera alle 8 lascerò il mio mandato da presidente, temporaneamente fino alle elezioni. Per evitare eventuali strumentalizzazioni, polemiche eccetera, questo è un gesto che... Dico una cosa, le dico una cosa, so bene che ci sono, Medin Fabriano ha delle sezioni, ogni sezione ha dei responsabili, so bene che ci sono delle persone che sono in lista con delle liste che non sono le mie, quindi voglio dire, Medin Fabriano è una cosa trasversale, anzi, aggiungo di più... Non è il suo lavoratorio politico. No, no, assolutamente, ci sono tutti dentro, ci sono gli assessori, ci sono i cittadini, ci sono le industrie, l'artigianato, il commercio, il tempo libero, la cultura e giovedì sera apriremo Medin Fabriano a tutto il territorio, quindi apriremo anche a Cerreto, Serra San Quirico, Genga e Sassoferrato perché tante richieste sono arrivate a dire Fabriano è l'ambito territoriale numero 10, raccoglie anche questi altri comuni, avremo piacere di entrare. Ripeto, alla fine del convegno alle 8 io lascerò la presidenza, quindi stessero tranquilli tutti gli altri candidati che non sarà Medin Fabriano, però continuerà perché è un'attività che non può essere assolutamente interrotta perché raccoglie 263 aziende, è la prima vera rete di impresa che è stata fatta a Fabriano.